Viene attaccato da Romagnoli e da Chessy, va a terra Lukaku che si arrabbia nei confronti dell'avversario, in particolare di Romagnoli, faccia a faccia, arriva Chessy a spingere Lukaku, si accendono gli animi del derby. Non è facile spostare Lukaku e qui in effetti ci ha messo più di una volta Romagnoli e anche riscatto qualcosa perché qui non ci può mai arrivare, vedi? Romagnoli va direttamente sull'uomo, calcio di punizione, Lukaku se la prende perché si è accorto che non aveva alcuna possibilità. E continuano le scintille adesso tra Ibrahimović e Lukaku a distanza. Eccoli, l'abbiamo visto anche il replay fornito dalla regia, continua Lukaku a discutere in maniera molto animata, sentiamo anche che parla c'è l'esercizio. Sì, allora, Ibrahimović sta ridendo in faccia Lukaku.